Buongiorno a tutti i trader, a tutti gli investitori da parte di Pietro Riglia, responsabile del blog Un occhio sui mercati azionari, con la nostra rubrica settimana dedicata ai mercati azionari, in poche parole un veloce epilogo di quello che è successo nell'ultima ottava sui principali listini e azionari, le attese per la nuova settimana e i titoli più interessanti per le prossime sedute. L'ultima settimana di aprile ha segnalato i primi scricchioli sui principali listini e azionari che hanno chiuso tutti impostati al ribasso in scia al deludente dato arrivato dall'Oltro Oceano dove il PIL nel primo trimestre ha segnalato una salita di un più 0,2% quando le attese erano ferme a un più 1%, soprattutto per il calo delle esportazioni scese nel periodo gennaio-marzo 2015 di oltre il 7%. Ricordo anche che sullo sfondo rimangono presenti i soliti problemi economici legati alla Grecia, si aspetta sempre il varo delle riforme per poter avere il paese ellenico e nuova liquidità, liquidità che dovrebbe essere usata per i tanti rimborsi che aspetteranno la Grecia nel mese di maggio, soprattutto quello per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, un rimborso di oltre 760 milioni di dollari. Durante l'ultima settimana pochi impatto ha avuto sui mercati la riunione della Fed, la riunione della Fed il cui comunicato stampa allontana sempre di più il primo rialto dei tassi di interesse oltreoceano e saranno in un certo qual modo importanti, fondamentali i dati che arriveranno durante la prossima ottava per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, perché ci saranno quelli riguardanti i nuovi e occupati, il livello di disoccupazione è quindi importante per capire se la frenata che abbiamo avuto nel primo trimestre, che è stata legata in parte a dei fattori atmosferici, possa essere un qualcosa di importante, un qualcosa di allarme per il restante parte del 2015. Quindi massima attenzione, massima cautela nell'approccio ai mercati per le prossime settimane, la cui volatilità dovrebbe, come avevo segnalato durante lo scorso weekend, aumentare dopo aver toccato durante il mese di aprile i minimi del 2006. Diciamo che è stata una settimana negativa sui principali listi nazionali e globali, ma novità giungono invece dal mercato valutario. Infatti l'impatto del PIL USA ha avuto un impatto positivo sull'euro e quindi negativo sul biglietto verde, euro che rompa al rialzo i primi target, le prime resistenze di quel famoso box che ha per oltre 45 giorni, compresso le quotazioni, rottura al rialzo di aria 1,10 e primi target rialzisti posti in aria 1,15. Attenzione perché quindi dall'euro arrivano i primi segnali di positività. Per quanto riguarda le materie prime, poco da segnalare per quanto riguarda l'oro, le cui quotazioni rimangono sempre all'interno di questo box con supporti in aria 1.180, resistenti in aria 1.200, 1.212, mentre per quanto riguarda il petrolio continua la risalita dopo il break di aria 62,60 e quotazioni che avranno e vengono confermati i primi target rialzisti posti in aria 70 dollari al barile. Settore quindi petrolifero che dovrebbe continuare a beneficiare di questo rialzo dei prezzi e che vedremo poi più avanti durante il nostro riassunto settimanale. Andiamo a dare uno sguardo ai maggiori indici, aria euro e poi il nostro indice è principale e nell'aria euro appunto il DAX che chiude la settimana in ribasso di oltre il 3,2%, ricordo comunque una performance da inizio anno è superiore al 17% e l'importante negativa è stata la rottura di aria 11.700, 11.300 punti per l'indice tedesco che a questo punto chiude la settimana in aria 11.450 e le attese a meno che appunto non avremo un veloce recupero di questi primi degli ex supporti sarebbe appunto per una continuazione del trend fin verso la soglia di 11.700 punti, ricordo che sopra gli 11.700 punti transano due importanti medie mobili come quella a E50 e come quella a 10 sedute. Andiamo a dare uno sguardo al nostro indice principale che si difende meglio rispetto agli altri listini, chiusura in ribasso dell'1,6% ma un più 21% da inizio 2015 e l'unica nota positiva appunto sul nostro indice principale è la tenuta di aria 23.000 punti. In aiuto dell'indice Fuzzimiba arriva anche la statistica, ricordo che da metà gennaio 2015 il rally che appunto si vive sul nostro Fuzzimiba non ha portato più di due sedute consecutive a ribasso e infatti nella giornata di giovedì, dopo le sedute di martedì e mercoledì fortemente ribassisse, la giornata di giovedì che si era aperta al ribasso con in discese fin verso aria 22.700 punti è stata appunto una chiusura al rialzo con quindi candela verde con recupero della media mobile a 50 sedute e chiusura oltre la soglia psicologica dei 23.000 punti. Sarà appunto la tenuta di questi livelli che dovrebbe aiutare il Fuzzimiba, quindi la tenuta di questi supporti ad evitare una nuova fase di vendite che potrebbero portare velocemente il Fuzzimiba a testare i top del 2.014 posti in aria 22.550, 22.600 e punti. L'ultima settimana è in particolar modo la seduta di giovedì, è stata una seduta fortemente negativa per STM che paga i deludenti dati arrivati al primo trimestre dove frena il mercato cinese dei componenti per quanto riguarda i personal computer, la rottura di aria 8.20 disegna un doppio massimo e quindi segnale fortemente negativo, apertura in gap down dopo appunto i dati comunicati prima dell'open del mercato e le attese sono per un test in aria 6.81-6.85 dove transita la media mobile a 50 sedute e a seguire gli altri supporti posti in aria 6.60, quindi attenzione perché comunque questa discesa potrebbe durante le prossime settimane trasformarsi in un'occasione di acquisto, anche perché ricordo sempre il mercato rimane sempre impostato al rialzo. Per quanto riguarda invece i fattori positivi, attenzione al titolo Mediaset su cui continua la speculazione riguardante e possibili collaborazioni con altri competitor del settore, il trend di fondo rimane sempre al rialzo e segnalo due livelli da monitorare su debolezza aria 4.30-4.35 mentre sulla forza il break di aria 4.85 decreterebbe un nuovo segnale di positività, un nuovo segnale long. Parlavamo di un petrolio in risalita e quindi potremmo sfruttarlo con il titolo Saipem, titolo che la debolezza delle ultime e due sedute comunque con volumi in ribasso e titolo che si appoggia in aria 11.85-11.80 ex supporti tenuta di questi livelli, potrebbe appunto riportare nuovi acquisti sul titolo con primi target in aria 12.55-12.60 oltre i quali verrebbe inviato un nuovo segnale di acquisto. Situazione analoga per Saras, due livelli da monitorare, aria 1.60 su debolezza ex resistenze, mentre sulla forza un primo importante segnale arriverebbe con il break di aria 1.85-1.90 e primi target posizionati in aria 2 euro. Quindi Saras e Saipem legati al settore petrolio e infine per quanto riguarda il lusso, attenzione all'uxottica, target alzati sulla società e tenuta degli importanti supporti post in aria 57 euro e i primi segnali positivi, i primi segnali di forza arriverebbero con il break di aria 62-63, top di sempre, oltre i quali verrebbe inviato un importante segnale di acquisto. Questi erano alcuni titoli più interessanti nel nostro listino, ricordo sempre chi fosse interessato a servizio di report e segnali operativi, basta contattare la pagina Premium Trend Online o scrivere una mail che ha detto sullo sfondo, ricordo un servizio intraday multiday su azioni, ETF, commodity e valute, tutto rivolto al nostro mercato azionale. Ricordo sempre per quanto riguarda la nuova settimana abbiamo detti i dati USA, per quanto riguardano le statistiche sui nuovi occupati, mentre dall'area euro importanti le venite al dettaglio, mentre dalla Cina uno dei dati importanti sarà quello legato all'indice PMI manifatturiero, fondamentale dopo gli ultimi dati negativi che sono arrivati al colosso asiatico e che hanno in un certo qual modo posto anche qua dei dubbi per quanto riguarda la crescita economica che il governo stimava al 7% durante il 2015. Con questo è tutto, auguro come al solito buon trading, buon weekend, l'appuntamento e per chi vuol seguirmi ogni giorno dalle ore 18 in poi sul canale YouTube di Trend Online il commento è serale sul nostro indice principale. Ancora una volta buon trading, buona serata da parte di Petroviglia. Grazie. 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 Grazie a tutti.